Sono assolutamente d'accordo che il tema delle sinergie di fare sistema è una delle tematiche principali. Ho l'onore di aver seguito la nascita del Consorzio Nazionale in Ballaggio più di vent'anni fa e oggi ne sono diventato presidente e vedere il percorso che è stato fatto ma soprattutto i risultati che sono dovuti a mettere insieme tutti gli attori della filiera dai comuni che sviluppano la raccolta differenziata a chi fa la selezione a chi poi ricicla i rifiuti di imballaggio che siano essi questi plastica, carta, alluminio, acciaio o legno inorgoglisce. Se guardiamo i numeri in Europa siamo tra i primi per il ciclo pro capite di rifiuti siamo secondi soltanto alla Germania e quindi questo ci deve da una parte inorgoglire e oggi abbiamo che 7 imballaggi su 10 che vengono gettati all'interno del cassonetto della raccolta differenziata trovano una seconda vita e un altro viene anche rivalutato da un punto di vista energetico. Se andiamo a guardare questo sistema con i consorsi riesce in qualche maniera a garantire che i rifiuti di imballaggio vengono raccolti. Devo dire che anche durante il periodo della pandemia che abbiamo appena vissuto il rischio che potesse esserci anche una crisi di rifiuti legata anche alla crisi sanitaria è stata scongiurata proprio perché abbiamo fatto sistema e abbiamo provato a in qualche maniera aumentare l'attività di stoccaggio per poter evitare che ci fosse un blocco nella raccolta differenziato perché molti settori che tradizionalmente effettuavano riciclo penso la parte dilema anche la parte automotive sarà completamente fermata a causa della pandemia ma nonostante questo proprio perché c'è un sistema che è riuscito a intervenire abbiamo garantito in tutti i casi la continuità dei servizi. Devo dire che se guardiamo questi dal 1998 ad oggi sono state portate e recuperate circa 60 milioni di tonnellate di imballaggi e sono stati forniti ai comuni italiani quasi 6 miliardi di euro per poter sviluppare la raccolta differenziata. Devo dire che il tema dello sviluppo della raccolta differenziata che con tutte le filiere che sono dietro è una delle attività che Conai ha dato e ha supportato in particolare gli enti territoriali comuni in questo modo. Vedere come è possibile attraverso una volta che un comune chiede aiuto per poter impostare la raccolta differenziata e vedere che nel giro di un anno e mezzo la raccolta può passare da circa un 20% a un 65% grazie alla costruzione di piani di raccolta ma anche piani di selezione e di recupero fa sì che abbiamo stato messo in piedi strumenti di supporto al territorio che generano da una parte occupazione e dall'altra parte portano a casa il tema dei risultati. Mi leggo esattamente a questo. Ieri avevo in mano la progettazione del servizio relativa al Casa Artano che sono circa un centinaio di comuni per quasi un milione di abitanti e è stato fornito proprio a tutto il territorio un piano operativo di sviluppo per i prossimi anni, anni e mezzo per ottenere questi risultati. Abbiamo provato a fare un esercizio dicendo bene ma se applicassimo questo all'area sud in particolare che è l'area su cui oggi ancora sottolineiamo che risulta essere indietro rispetto a questa una parte di attività pur avvicinandosi con delle eccellenze in particolari viene fuori che esistono dei potenziali per avere una 160 impianti intermedio finali di riciclo e recupero con investimenti per circa un paio di miliardi e quindi penso che questo possa essere assolutamente la base e il supporto per poter capire in come indirizzare e aiutare anche una parte dei fondi che arriveranno legato al recovery fund al tema dell'economia circolare. Quindi mi auguro che siamo disponibili assolutamente a fornire gli elementi e le competenze per poter in qualche maniera costruire e migliorare in particolare in alcune aree del paese questo tipo di attività.